Il Centro Regionale per l'Autismo da realizzare a Pesaro sulla struttura Asur di Via Vattielli ha avuto un'accelerazione nell'ultimo Consiglio Comunale di Pesaro tenutosi la scorsa settimana ma ha diviso i pareri sulla celerità del progetto nel Consiglio regionale di ieri. Attualmente quindi la variante urbanistica è stata definita, ci sarà la possibilità di edificare un edificio fino al massimo di due piani per 1200 metri quadri, ora quello che manca però è il progetto definitivo per poter veramente partire con i lavori. Le famiglie sono stanche di aspettare, ormai dal 2017 che avevamo previsto 800 mila euro a bilancio, sarà un centro che darà veramente sollievo alle tante famiglie che stanno aspettando appunto questo centro, che sarà un centro residenziale, un centro diurno ma anche un centro sollievo dove ci saranno fino a 18 posti letto nuovi appunto per dare le risposte alle tante famiglie che stanno aspettando. Biancani, nelle Consiglio regionale di ieri, ha esternato il fastidio per la mancanza di tempi certi. Nicola Baiocchi, presidente della Commissione Sanità, ha invece assicurato che la pratica è stata accelerata rispetto all'immobilismo nella giunta Ceriscioli e che gli atti in corso garantiscono il varo di un progetto tecnico preliminare entro sei mesi.